Vediamo un'applicazione degli oggetti illustrati nella precedente lezione. Per inserire questi oggetti voglio utilizzare un riferimento. Adesso utilizzeremo come primo riferimento un disegno di XFDVG. Apriamo il menu degli oggetti, apriamo la sezione grafica 2D e scegliamo l'icona disegno di XFDVG. Facciamo un clic sulla tavola, si apre la finestra di esplorare risorse dalla quale sceglieremo il file da importare e cliccheremo su apri. Dobbiamo digitare il fattore, cioè quel coefficiente necessario per riportare l'unità del disegno di VG o di XF in metri. In questo caso il disegno di VG è già in metri, quindi lasceremo fattore 1. Se l'unità del disegno del file di VG o di XF era al centimetro, nel fattore avremo inserito 0.01. Clicchiamo conferma. Adesso il mio DXF è ancorato al cursore del mouse. Con un clic lo blocchiamo nella zona in cui vogliamo disegnare. Analizziamo anche le proprietà di questo DXF. Lo selezioniamo. Sulla destra possiamo modificare il fattore di dimensione. Possiamo caricare un nuovo DXF o DVG che andrà a sostituire quello già caricato. Possiamo cliccare su Aspetto originale. Questa opzione farà sì che il disegno prenderà lo spessore e il colore delle linee del disegno originale. Possiamo anche qui definire la classificazione assegnando un gruppo e una tipologia. Possiamo spostarlo lungo l'asse X e lungo l'asse Y per modificare la posizione. Abbiamo un layer associato. Possiamo bloccare lo spostamento di questo DXF e DVG in modo che durante il nostro disegno non venga mai selezionato e spostato. Possiamo rendere visibile questo DVG anche nella vista 3D. E infine abbiamo la sezione relativa al colore del DXF. Quindi in questo caso è un colore chiaro. Possiamo scegliere qualsiasi altro colore. Lo spessore delle linee. Questo è l'identificativo. Possiamo bloccarlo e possiamo associare a questa entità anche degli allegati. Vediamo subito come utilizzarlo. Blocchiamo gli spostamenti. Iniziamo con l'inserimento degli involucri. Per inserire gli involucri apriamo di nuovo il menu degli oggetti. Nella sezione architettonica selezioniamo l'involucro. Disegniamo l'involucro utilizzando gli snap forniti dal disegno DVG. Utilizziamo i tasti F5 ed F6 per modificare l'allineamento e disegniamo il primo muro. Selezioniamo il DVG. Rendiamolo visibile anche nella vista 3D. Inseriamo un nuovo involucro. Questa volta voglio utilizzare degli acceleratori. In particolare questa bacchetta magica grazie alla quale tracciando una linea trasversale all'asse del muro riusciamo a riconoscere automaticamente i nostri involucri. Con pochi passaggi riconosciamo l'intera pianta. L'involucro vengono spezzati ad ogni intersezione. Qualsiasi involucro può essere selezionato e modificato. Continuiamo il disegno utilizzando un altro riferimento per il disegno. Questa è griglia magnetica, una magnetic grid 2D rettangolare. Selezioniamo l'oggetto. Facciamo un clic sulla tavola grafica. Qui possiamo decidere le dimensioni di ogni singola griglia e possiamo aggiungere anche altre righe ed altre colonne. Clicchiamo conferma e otteniamo la nostra griglia. Questa griglia verrà utilizzata come riferimento per l'inserimento dei nuovi muri. La voglio inserire in particolare sull'asse di questi muri utilizzando gli snap. Poi la modifico. Per modificarla occorre selezionarla e vediamo quali sono le opzioni. Sicuramente cliccando su questa freccia posso decidere di modificare la lunghezza di questo tratto di griglia. In questo modo. inoltre posso agganciarmi qui per ottenere proprio il valore preciso. posso selezionare questa freccia per modificare la lunghezza con il comando modifica lunghezza sposta grazie al quale riesco a modificare la lunghezza di una parte della griglia rispetto all'altra mantenendo comunque la lunghezza totale costante. E qui da tastiera digitiamo 4.5. A questo punto modifichiamo anche la lunghezza in quest'altra direzione arrivando fino al centro. inoltre con questo punto centrale possiamo decidere di dividere la griglia in più parti posso decidere di dividerla in tre parti digito 3 da tastiera do invio e viene automaticamente divisa in tre parti oppure posso selezionare sempre questa freccia e scegliere unisci tutti oppure eliminare completamente la griglia. A cosa serve questa griglia? Serve sempre come riferimento per il disegno e grazie alla griglia è possibile anche utilizzare questi acceleratori quindi utilizzo un riconoscimento automatico da Magnetic Grid sarà sufficiente disegnare solo un rettangolo che seleziona i lati della griglia che voglio riconoscere comparirà questa finestra nella quale scelgo l'allineamento che voglio assegnare ai muri in questo caso sceglierò l'allineamento centrale i muri sono già disegnati sarà sufficiente allungare questo per chiudere il perimetro vediamo adesso anche l'inserimento di una facciata continua e di un involucro curvo eliminiamo questo muro del vano scala selezioniamo involucro curvo clicchiamo il primo punto e anche il secondo punto di inserimento e scegliamo la curvatura da quest'altro lato eliminiamo la parte relativa all'involucro selezioniamo la facciata continua scegliamo il modello dalla libreria oggetti BIM applichiamo e disegniamo da qui e prolunghiamo anche oltre la nostra facciata continua selezioniamo il tratto che si è spezzato e lo eliminiamo selezioniamo la nostra facciata continua e decidiamo di invertirla così che il vetro sia nella parte esterna e il telaio nella parte interna a questo punto possiamo modificarla dando un margine al lato sinistro ad esempio 20 cm uno al lato destro e infine possiamo dare un piccolo parapetto inferiore di 50 cm inserendo anche la soglia ultima operazione da fare sulla facciata continua e utilizzare la stessa stratigrafia che abbiamo utilizzato per questa interna quindi anche qui possiamo scegliere la stratigrafia o digitare il valore dello spessore direttamente da questa finestra disegniamo il tetto utilizzeremo questa bacchetta magica Bano che riconosce il perimetro esterno di tutto l'edificio clicchiamo su edita tetto eliminiamo questa parte in questo modo cliccando cance per eliminare i singoli tratti poi spostiamo nei diversi incroci i punti del perimetro del tetto assegniamo anche un offset ad esempio di 80 cm a tutto il perimetro a tutto il perimetro e poi modifichiamo le parti che vogliamo lasciare all'interno disegniamo le falde quindi partiamo da questo lato e arriviamo a quest'altro e scendiamo giù terminiamo con la prima falda e disegniamo la seconda qui modifichiamo la pendenza questa qui la portiamo da qui a qui questa qui la portiamo su quest'altro lato alziamo il punto P con 2 o digitiamo direttamente qui la quota o assegniamo una pendenza ad esempio del 35% le altre falde le raccorderò direttamente utilizzando la linea di pendenza e terminiamo nella vista 3D abbiamo realizzato il tetto aggiungiamo un nuovo tetto solo per la porzione relativa al vano scala questa volta la disegniamo modifichiamo il perimetro assegnando un offset di 0,80 modifichiamo questa parte in arco e disegniamo la nostra falda cambiamo sempre il lato in arco la linea di pendenza andrà in questo modo questo lato qui lo raccordiamo al vecchio tetto portando anche la linea di pendenza qui alzeremo questo tratto fino al tetto e questo un po' più in alto terminiamo e questo è un po' più in alto